L'ex presidente della Terramo Calcio e gestore dello stadio Bonolis, Franco Iachini, ha voluto fare chiarezza in particolare sulla querella legata alla gestione della struttura di Piano Daccio, ma anche denunciare l'ultimo avvenimento extracalcistico che lo ha interessato, registrato il 30 settembre scorso, dove un non meglio identificato tifoso del Terramo Calcio si è introdotto nella festa del nuovo ristorante aperto da Iachini, rivolgendogli minacce pesanti. Questa conferenza stampa serve proprio a chiarire a qualcuno che forse non ha ben capito che la responsabilità non è mia, perché io non è che voglio tenere lo stadio, io lo stadio lo tengo perché ho una concessione che ho pagato e deve essere remunerata. Stiamo cercando di trovare una soluzione, io ce la metto tutta, sono arrivato a offrirlo a 60.000 euro ufficialmente e siamo disposti anche a offrirlo a zero, naturalmente rivedendo la concessione dello stadio e il resto. Cioè la squadra di calcio qui viene a giocare senza pagare, viene a disputare le sole partite all'interno dello stadio e senza pagare nulla. Nessuna transazione è fallita, si è dato il via all'arbitrato che noi dovevamo avviare l'anno scorso e che l'amministrazione comunale ci ha chiesto più volte di sospendere per trovare un accordo. L'abbiamo fatto in tanti modi, boh basta, perché ogni volta c'è sempre questo spostare la palla in avanti e a me sembra una presa in giro. Una scelta imprenditoriale è quella della gestione dello stadio che Iachini non rifarebbe assolutamente. Ma neanche se mi pagassero, mi buttassero un cannone sulla testa, ma neanche morto. E questa non è un'offesa contro i tifosi, questa è un'offesa contro questa amministrazione, perché ti fa assumere degli impegni a fronte di promesse che si vedeva, si sarebbe rivisto, fatto, ma più che altro per un discorso di sviluppo, perché io sono stato molto interessato allo sviluppo sia del calcio che dell'infrastruttura a stadio, perché questo è un bene della città che deve essere valorizzato. Perché noi abbiamo un gioiello che ce lo invidiano tutti e potrebbe diventare un punto attrattivo per la città, perché fare concerti da 20-25 mila persone ogni estate, noi abbiamo fatto un'analisi di marketing, questo bacino territoriale della costa adriatica d'estate raggiunge 7 milioni di abitanti. Quindi portare qui 4, 5, 6 elementi di attiro vuol dire portare a Teramo 120-130, 200 mila persone ogni estate a vivere la città. Grazie.